Il mio pensiero l'ho detto dall'inizio, io quando sono venuto qui ho detto che volevo far venire, o volevamo, perché poi volevo no, volevamo far venire alla gente come? Giocando calcio. Quindi nel momento in cui tu cerchi di giocare penso che non mi diverto solo io, se divertono i ragazzi, perché io penso che questa squadra possa giocare calcio perché ha qualità e quindi giocando calcio tu fai venire la gente allo stadio. Nel momento in cui la gente non vede questo è più difficile, penso che giocando calcio attraverso il gioco si può arrivare bene, non è che sia la ricetta quella giusta, io non dico questo perché poi il Carpi secondo me gioca meno di noi, ma è lì primo, quindi ha il suo merito. Io, il mio pensiero è questo, di cercare di giocare bene perché abbiamo la qualità, abbiamo attaccanti bravi e dobbiamo far arrivare bene la palla a terra, quindi cercando di giocare, e penso che l'abbiamo dimostrato, tu puoi arrivare, siamo arrivati molte volte, davanti alla porta abbiamo sbagliato, è stata la bravura del portiere, quindi penso che la proposta sia di giocare, non è solo a Bologna, a Cagliari la stessa cosa. Io parlo di Cagliari perché sono stato a Cagliari, quindi non è solo qui, io sinceramente penso che il lavoro paga e questo lo penso da quando giocavo, ho molta fiducia in me, ma soprattutto ho molta fiducia nei ragazzi, e non nei nuovi, nei vecchi, ho fiducia in questi ragazzi che ho, io non faccio quelli di prima e quelli dopo, no, è un unico gruppo che va avanti. Sono contento perché i nuovi si sono inseriti molto bene e questo mi fa piacere, quindi ho un gruppo e questo è il gruppo che va avanti, quindi io non faccio differenza. Poi in quanto riguarda quello che stiamo facendo, io sono contento che si parli molto bene dei ragazzi, poi quello che si parla di me, cioè io sono consapevole delle mie forze, delle mie scelte, delle mie cose, ho molta fiducia in me, ma soprattutto ho molta fiducia nei ragazzi. Quando si parla bene dei ragazzi, per me va benissimo, poi di me non importa.